A volte nel mondo Disney tra appassionati, lettori e collezionisti si parla dei cosiddetti allegati regionali. Che cosa sono? Sono alcuni albetti o alcuni gadget che sono stati distribuiti soltanto in alcune zone d'Italia in immediati periodi storici. Questa sera vi voglio mostrare uno, che è questo albetto spillato che è stato distribuito col Topolino nel 1991 solo nella regione Sicilia. Dopo la sigla ve ne mostrerò l'interno perché è piuttosto interessante. Il 29 dicembre 1991, se foste accorsi in una qualsiasi ridicola in Sicilia ad acquistare questo Topolino in 1883, che tra l'altro contiene alcune storie fantastiche come per esempio Paperino in una storia infinita che vi porterò sul canale prima o poi, avreste trovato all'interno del blister anche questo albetto intitolato Walt Disney Topolino presente il bosco ha bisogno di voi. È stato, come si legge in terza di copertina, realizzato a cura della regione siciliana assessorato agricoltura e foreste, direzione foreste gruppo 10 AIB, azienda foreste ed emaniale gruppo sub. E qui in basso appunto è riportato anche che appunto fosse un supplemento redazionale a Topolino 883, direttore Lorenzo Capelli eccetera eccetera. Che cosa è? È un albetto di poche pagine, 36 in totale, che è stato appunto distribuito in collaborazione tra la Disney Italia e la regione siciliana assessorato all'agricoltura e foreste, per cercare di sensibilizzare i giovani al problema degli incendi, perché è una piaga che allora, come adesso, riguarda molte regioni del nostro paese, in particolar modo la Sicilia, e quindi si decise di intervenire con questa iniziativa. Io ricordo molto bene quest'albo perché lo acquistai proprio quel giorno in ericola, questo infatti è il mio albetto originale, che ha un po' di segni del tempo, anche se in ottime condizioni e la carta è molto buona, mentre l'albo 1883, quello che ho recuperato in un lotto, il mio si trova a casa di mia mamma. Quali sono le particolarità? Questo albo contiene una storia che è suddivisa in tre parti, che si racconto leggendario di Karl Barks, apparso nel 1950 negli Stati Uniti e poi pubblicato a fine di quell'anno sul topolino, nei numeri 22, 23 e 24, ed è la caratteristica di essere la storia più lunga, ma realizzata a Karl Barks. Infatti, anche qui si vede, viene suddivisa in più parti, che evidentemente corrispondono a quelle originali del topolino, dico evidentemente perché questi numeri non ce li ho ancora. Quindi c'è questa prima parte, poi a intermezzare la storia ci sono alcuni articoli che servono appunto a salvaguardare la foresta e poi continua la storia, altri articoli e poi la conclusione. Per quanto riguarda il racconto, il racconto, come appunto si evince dal titolo, parla dei nostri paperi che vanno in vacanza. Decidono di recarsi nelle foresta, nella foresta, fuori i paperopoli per passare appunto un periodo di riposo. E quindi prendono, diciamo, alloggio presso una zona ben organizzata, ben strutturata, vengono controllati da parte delle guardie forestali che l'equipaggiamento sia consono, quindi ci sono anche dei secchi e tutto ciò che può servire per rispettare la natura. E così cominciano queste vacanze, anche che apparentemente sembrano spensierate, in cui c'è il cervo maschio, che poi diventerà il soggetto di desiderio perché vorrebbe fotografarlo per vincere il primo premio a un concorso. Quindi dopo qualche pagina piuttosto bucolica con questi animaletti rappresentati in maniera veramente meravigliosa e fantastica da parte di Barks, con queste tavole e anche con questi sfondi un po' particolari, non è che siano stati riprodotti, sono esattamente così. A un certo punto Paperino si imbatte in un altro avventore che però non rispetta la sicurezza del bosco come lui. E qui finisce la prima parte. La seconda comincia a pagina 16, in cui si ha questo incontro-scontro con questo personaggio, al quale Paperino intima spiega appunto di quali siano le norme di sicurezza per far sì che non succeda qualche incendio. Ricordatevi questa tavola perché tornerà anche alla fine con Paperino che parla con questa persona e uno dei nipotini con la macchina fotografica in mano. Paperino viene malamente mandato via da questo disgustoso personaggio e loro a questo punto continuano la vacanza e Paperino ha un altro scontro con questo cervo che, come dicevamo all'inizio, vorrebbe fotografare per vincere questo primo premio. Ma a un certo punto si rendono conto, si accorgono che il bosco va in fiamme. Ci sono queste fiamme molto alte, questo incendio così rappresentato anche con questo fumo da parte dei Bax in maniera molto realistica. E a questo punto l'altro avventore si rende conto che l'incendio è stato causato da lui e quindi prova a darsi alla fuga, anzi addirittura dice, si vedrà più avanti, di fare in modo di dare la colpa ai Paperi che stanno provando a mettersi in salvo perché nel frattempo l'incendio si sta dilagando sempre di più, gli animali scappano, quindi comincia a esserci un pathos, quindi un crescendo molto, diciamo, drammatico. Dopo qualche altra pagina abbiamo la terza e ultima parte della storia. L'incendio ormai di Vampad sta devastando interamente il bosco e l'avventore decide di scappare rubando la macchina di Paperino e addirittura se ne libera buttando una scarpata in modo che possa non poterlo, possano non risalire a lui, anzi accusare addirittura i Paperi dell'incendio. E qui avviene il momento più drammatico della storia, ricordiamoci che questo è stato pubblicato su Topolino, quindi che deve essere in teoria una lettura destinata ai più giovani. I quattro Paperi decidono di seppellirsi vivi, bagnando le loro magliette con dell'acqua per poter respirare sperando che il fuoco vada avanti e che non li uccida. E quindi qui abbiamo questa tavola molto drammatica. A un certo punto arriva la forestale. L'uomo che ha causato l'incendio incontra uno di questi e subito decide di accusare Paperino e Nipotini di avere compiuto questo grave fatto. Quindi subito prova a scagionarsi in questo modo. Scopriamo che i Paperi sono salvi, quindi riescono a uscire fuori da queste loro tombe che praticamente si sono costruiti e trovano tutto drammaticamente distrutto. E decidono di andare a denunciare il fatto della forestale, dove trovano l'uomo che subito però capisce che potrebbe essere nei guai e accusa Paperino. Quindi immediatamente. Ci ha detto un diverbio fra i due, mentre Paperino cerca anche di spiegare che la loro colpa non è sua ma dell'uomo. E a questo punto uno di Nipotini interviene con la famosa macchina fotografica che dicevo all'inizio, nel quale sono contenute delle foto che scagionerebbero lo zio e accuserebbero l'altro uomo, il quale però si tradisce a questo punto perché non vuole che vengano sviluppate queste fotografie. Ricordiamoci che allora non c'erano chiaramente le foto digitali, ma il responsabile della forestale ha capito immediatamente tutto. E infatti dopo che viene sviluppata la foto in cui si vede l'immagine che vi dicevo prima, di Paperino che spiega a quest'uomo come non accendere un fuoco, dice anche che, qualora non si fosse tradito con le sue azioni, quindi quelle viste poco sopra, questa foto avrebbe comunque scagionato Paperino e Nipotini e accusato l'uomo, il quale poi immagino verrà mandato in carcere. E a questo punto viene l'uomo della forestale, fa i ringraziamenti ai nostri Paperi e gli dice che per due settimane possono tranquillamente stare nella foresta a godersi le vacanze in attesa che poco il tempo tutto ricresca. Ma uno dei nipotini, proprio perché sa che Paperino riprenderebbe la caccia al cervo, chiede al comandante della forestale di requisire la macchina fotografica come prova del reato compiuto. E così cominciano le vacanze, pescano, dormono, giocano, ma Paperino è infuriato perché tutte le sere, quasi come se lo facesse apposta, il cervo si trova in posa sopra una roccia al tramonto in attesa di una foto che il Papero non potrà fargli perché la macchina fotografica è stata sequestrata. Questa è una storia molto bella, mi colpì tanto allora, non rimasi sconvolto dalla vicenda che loro si fossero, diciamo, nascosti, occultati, sepolti sottoterra per scampare all'incendio. Questo dimostra come anche l'animo di un bambino poteva, diciamo, digerire certe cose, del resto non l'avrebbero pubblicato altrimenti. Anche perché in quel periodo mi ricordo che spesso si parlava della possibilità di potersi nascondere sotto il terreno con dell'acqua per sopravvivere degli incendi, non era la prima volta che ne sentivo parlare, non mi fece alcun effetto, diciamo, negativo. Anzi, mi ricordo che mi insegnò qualcosa. Oggi probabilmente sarebbero delle tavole considerate poco adatte al pubblico dei più giovani, ma questa è un'altra storia. Per quanto riguarda invece, diciamo, la parte relazionale che divide, che fa da intermezzo tra i tre tempi della storia, abbiamo alcuni articoli dedicati all'attività del corpo forestale in Sicilia. Il rimboschimento, tutti gli anni purtroppo c'è la tragedia degli alberi che bruciano per vari motivi, diciamo così. Poi c'è la vivaistica, quindi i vivai, in cui vengono a essere fatti crescere nuove specie. La sistemazione idraulica, le sistemazioni idrauliche, l'idraulico forestale, quindi anche come fare collegare, diciamo, in qualche modo l'acqua, far arrivare l'acqua nei vari punti. La manutenzione dei boschi naturali, anche questa è importante, quindi portare le piante dove possibile, e la ricostruzione dove necessario. Gli interventi di sistemazione intensiva, anche qui facendo dei lavori, diciamo, extra, quindi che vanno intorno all'albero stesso, perché l'importanza di un albero, a parte l'ossigeno, ricordiamo anche quello di garantire stabilità e quindi evitare frane e tutte queste cose qua. La polizia forestale di cosa si occupa, quindi persegue i reati, previene, persegue i reati, e le altre attività del corpo forestale, tra cui attività dinattica, ricreativa, sportiva, restauro e conservazione. Poi, dopo la seconda parte della storia, abbiamo l'organizzazione AIB, anti-incendi boschivi, come si previene un incendio, le ripuliture della vegetazione spontanea, il pattugliamento del territorio, la repressione, perché ovviamente devono essere presi anche certi comportamenti compiuti dai piromadi o dai criminali, comunque. E poi, ricordati che tra queste due immagini c'è di mezzo solo un fiammifero. Questo è molto importante e molto d'effetto. E qui, appunto, c'erano i crediti iniziali. Da qualunque parte della Sicilia basta un gettone telefonico per salvare il bosco, allora c'erano ancora i gettoni. In caso di incendio chiama il numero verde 1678681096, che tra l'altro un paio di volte mi è capitato di chiamare allora. Questo è un piccolo allegato che venne distribuito in Sicilia nel 1991 col topolino 1883. A presto!